Non ci sto credendo perché ho riso a questa cosa non ha senso Benvenuti ragazzi in questo nuovo video oggi challenge malatissima Infatti guardate siamo su MushX4 e qui nel negozio ci sono ben tre offerte Una delle quali è addirittura leggendaria Anzi scusate volevo dire leggendaria E oggi andremo a fare la reaction alle migliori clip anzi le clip più divertenti che ho trovato sul web E se dovessimo ridere saremmo costretti ad andare a shoppare queste offerte Quindi un'offerta per ogni risata Quindi benvenuti in questa prova a non ridere challenge Ovviamente iscriviti adesso al canale per non perderti più nessun nuovissimo video Vediamo subito la prima clip ragazzi Ok ovviamente la mia è una reaction quindi vi lascio il video intero qui sotto in descrizione E c'è subito un Dynamike che è super spinna con il gadget E ragazzi è la prima volta che vedo un Dynamike riuscire a killare con il proprio gadget Che secondo me è inutile Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti Super sopravvivenza abbiamo un Mortis che sta facendo davvero il panico Ma attenzione manca pochissimo per far fuori tutti quanti Fa fuori anche la Pamokie Questa era tipo una mega giocata un mega win Super salto di Brock che prende la palla e fa gol Ma questa è una provata più che altro Ok che sta succedendo Nooo No no qua mi veniva da ridere ragazzi Qua mi sono trattenuto all'ultimo davvero Gelindo contro Pam La stunna con la sua super La butta via La butta via mi devo calmare Mi devo calmare ragazzi Ha vinto con il suo gadget Bravissimo ragazzi mi sta venendo già da ridere Perché mi immagino quella Pam Che è stata scaraventata via con il gadget Oh non ci credo Super predict da parte di quello Eugenio Che ha grabbato con la sua mano Quel leon invisibile Se lasci like entro 5 secondi Oggi anche tu farai delle provate su Brawl Stars Quindi 5 4 3 2 1 Spero per te tu lasciate un like E così farai le provate anche tu E prenderei un bel po' di coppe Abbiamo un bombardino maxato Che sta lì per i fatti suoi Abbiamo un Barrel Che usa il suo gadget No non mi dire che vince Non mi dire Ha vinto Ha vinto No non ci credo che ha vinto Che sta succedendo Così ok Ha grabbato la palla con una fortuna assurda Davvero assurda Cosa è successo? No No ma no 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 Sinceramente non ho ben capito cosa è successo ragazzi Ditemelo voi perché Non ci ho capito granché Allora dobbiamo concentrarci perché non dobbiamo ridere Ecco Ecco Va bene No fa la doppia Ragazzi no Questi suoni fanno troppo ridere velo giuro Ha fatto tipo 5 super di fila Malatissimo No 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 perché è un riso Perché è un riso Perché è un riso Perché sono un scemo e un riso Riguardiamo almeno la clip che mi ha fatto ridere ragazzi Cioè no vabbè anche questo mi ha fatto ridere Guardate lui voleva buttare dentro la palla e riprenderla Solo che con il dash non riesce a riprendere la palla Anzi non si riprende la palla quando fai il dash Mortis E quindi si è fatto autogol Questo è un scemo Non ci credo Non ci credo che è un scemo Purtroppo però ragazzi ho riso E questo significa che dobbiamo andare a sciopare la prima offerta Eccoci ragazzi siamo di nuovo su Brawl Stars E apriamoci appunto L'offerta di giugno con la mega cassa Le gemme e l'oro Ah 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 Qui si torna A sciopare Ok 80 gemme e 700 di oro Si va con la mega cassa ragazzi Purtroppo ho riso E questa è la mia penitenza Una bella mega cassa ragazzi 5 ecco Me lo merito perché ho riso Dovevo trattenermi ragazzi Ma a volte mi scappa troppo Perché c'è una risata un po' troppo forte Cioè nel senso che esce facilmente Ok anche Poche è andata E adesso torniamo a vedere Le clip più divertative web Ragazzi ovviamente Fatemi sapere se anche voi avete riso Nello stesso punto in cui ho riso io E mamma mia mamma mia No 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 Nooo Non ci credo che cosa ha appena fatto No ma è il mio È il mio mega idolo È il mio mega idolo Non ci credo Doppia kill con la safe No vabbè ragazzi Date una medaglia a quel gelindo E dategliela ora Mamma mia che salto Che salto ragazzi Eh sì perché ovviamente non può atterrare Sul coso Ok kill fatta da gelindo Abbiamo poi Che sta succedendo Nooo di nuovo Di nuovo No Non devo ridere Non devo ridere Mi fa troppo ridere quella situazione No no Tre bombe zio Ma che fortuna No 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 Boom boom Mortissimo 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 Doppia kill da parte di Boo Che fa l'unplen Ragazzi Attenzione Guardiamo questo Barrel No sì questo barrel Con 7 power up Che è appena di atto 9 power up Ok No dovrebbe utilizzare la sua super L'ha buttato via Col gadget All'interno della porta E non ha fatto gol Davvero Che cosa è successo No corre in faccia La rosa No ha vinto contro la rosa Tripla kill Tripla kill Mamma mia No 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 Ho riso di nuovo No 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 Spero che si sia sentito ragazzi Il motivo per cui ho riso di nuovo Qui ragazzi Ad una certa C'è il rumore di John Cena No appena ho sentito Ho riso troppo Sentite Io sto zitto Non ci sto credendo Perché ho riso a questa cosa Non ha senso Ragazzi Sul John Cena Mi sono messo a ridere Cioè Ok Va bene E ragazzi Ci tocca la seconda shoppata Ossia L'offerta con 4 mega cast Chissà che non lo trovo Già di mio Il Il brawler Leggendario Sinceramente dubito Però vabbè 139 gemme Per 4 mega box Vediamo E 5 schifette Pareva Pam Pam Perché Pam Mannaggia Pam Cioè se io sono il re dei chest opening Pam E la regina della sfiga Ecco Ecco lo sapete Ormai Ormai lo sapete Pam mi porta sempre sfiga Mannaggia Pam Eh Mannaggia Pam ragazzi Se becco uno Qualche fiere che fa il cosplayer Di Pam Le botte in faccia Gli do Le botte in faccia Ok Altra mega cast Ed è di nuovo un 5 Vabbè Ok È uscita Pam ragazzi Cosa posso volere È uscita Pam Ok ragazzi Stecca Jackie BB E vabbè Lo sapevo che non c'era un nuovo Un nuovo brawler Va bene Ma abbiamo ancora altre 2 mega box Questa La conto ragazzi L'apriamo in 3 2 1 Apriamoci questa mega box E di nuovo un 5 In effetti non so quanti brawler Mi mancano sul quarto account Quindi non so davvero Cosa aspettarmi Da questo box opening Barril Carl Attenzione È proprio lei Vuoi uscire da questo Da questo account Mannaggia te Vai via Vai via Mi porti sfiga Raddoppia gettoni E si però è uscita Pam ragazzi Quindi questa quarta mega box Sarà ancora più sfigata Perché doppia Pam Doppia Pam ragazzi Impossibile Impossibile Altra mega box In 3 2 1 E andiamo E un altro 5 Yeah Ma uffa Brawl Stars Io volevo Un blue brawler Però ovviamente Non si può sempre Volere tutto D'altronde questa È comunque Una penitenza Quindi andiamo spediti E ritorniamo a vedere Le nostre clip Iper divertenti E ragazzi Se dovessi ridere Un'altra volta Dovrei shopparmi lei L'offerta speciale di Sandy Un'offerta Leggendaria Sopravvivenza 1v1 Credo Lo lancia via con il gadget Quello è il primo Fanno il giro giro Tondo per non so quanto tempo Lo lancia di nuovo Si butta contro Ma il barrel va indietro E si uccidono a vicenda Un finale Alquanto tragico Ragazzi Davvero molto molto tragico Ok Che cos'è successo Viene lanciata Contro quell'8 bit Gli hanno fatto fuori Anche l'8 bit Mamma mia Che giocata ragazzi È il gadget ovviamente No Che predict Oppure ragazzi Che solamente Sfuggito il dito Sulla superman Dopo che ho utilizzato Il gadget Cosa molto probabile Anzi Dite la vostra Qui sotto nei commenti Dobbiamo però Concentrarci Perché Se dovessi ridere di nuovo Ci sarebbe l'offerta leggendaria Bella 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 Sta parata ragazzi Davvero GG Mega GG Che sta succedendo L'orsacchiotto L'orsacchiotto Sì Che viene preso Però a sberle A sberle quel bull Mamma mia Mamma mia Che Che super Che super Gol Quello lì Ok A caso A casissimo ragazzi A casissimo Non sa manco lui Cosa è successo Una carambola Che ha ucciso Chiunque Ok Ok Lavoro di squadra ragazzi Super lavoro di squadra Lancia Città di trasporta Lo sapevo Lo sapevo Mamma mia Mamma mia Un idolo Un idolo Un idolo ragazzi Il rumore della puzzetta Mi sta per far cadere Ma ancora no Non è ancora il nostro momento Ragazzi Non possono andare Perché se no La bolla Li avrebbe killati E vengono comunque Killati dalla bomba Di Danamike Mamma mia ragazzi Che dolore Che dolore Che sta succedendo Subito Boom L'ha iperkillato Attenzione Quel boh Attenzione Non vuole far avvicinare Quella nita Si prende anche lui Il bibitozzo Attenzione Va lontano C'è una Una piper Così In agguato Ok La piper Sta Zittissima Va bene Si fa i fatti suoi A quanto pare Salta Ora salta sicuro Saltano entrambi però E muoiono tutti Il corvo vince A caso Come fa ora a vincere Come fa a vincere Ha meno vita E meno power up La lancia No No Quanto lontana Riesci da lanciarla Con il gadget Cacchierola ragazzi Non ci credo Non ci credo Come è fatto a vincere No 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 Hanno perso una partita Hanno perso una partita In zero secondi Non ci credo Come cacchia Hanno fatto Avete capito Come è morto Sto Leon Lui praticamente Voleva A parte che tipo Risol Sto ridendo troppo Allora Guardate Lui ha utilizzato Un attimo Lui ha utilizzato Il suo gadget Qui praticamente Anche si è sfocata L'immagine Per creare La sua copia Solo che la copia È un oggetto È un oggetto Che fa splittare Le Il colpo Di come si chiama Di Penny E quindi Lui si è beccato Tutti e tre I getti di monete Oltre L'oggetto primo colpito Quindi ragazzi Se non avessi utilizzato Il gadget Sarebbe sopravvissuto Invece lui lo utilizza E si becca Tipo troppi danni Gli ha fatto ridere Troppo ragazzi Perché lui voleva fare Il pro che utilizzava La copia Invece ci è morto A causa di essa Ecco E adesso Noi dobbiamo anche Shopare Per colpa di Di sta giocata Del cacchio E ragazzi A quanto pare Mi tocca Shoppiamoci L'offerta Leggendaria In tre Due Uno Andiamo Con Sandy Ragazzi Con Sandy Va bene Cioè Più o meno Va bene Quindi La penitenza Quanto pare È stata pagata Guardatela qui Sandy Che ti piglio pure a schiaffi Magari ti svegli un po' Se questo video vi piacereci Lasciate un bel like E iscrivetevi al canale Seguitevi anche su Instagram E qui c'è anche TikTok Il link in descrizione In descrizione E noi condizioniamo magari In un prossimo video Ciao Ciao